Con alcuni di voi ci siamo già salutati ieri per la 74esima Assemblea Nazionale e poi per il meraviglioso pomeriggio culturale vissuto insieme. Oggi si aprono i lavori del convegno nazionale FIDE che ci vedrà impegnati nella riflessione su un tema importantissimo, i linguaggi delle nuove generazioni e come educare attraverso le arti. Educare attraverso l'arte è educare al bello. Siamo nell'anno che conclude il decennio che la Chiesa italiana ha dedicato a educare alla vita buona del Vangelo. Siamo nell'anno che conclude il decennio che la Chiesa italiana ha dedicato all'educare alla vita buona del Vangelo. Già ieri ricordavo che il Papa il 10 maggio 2014, proprio nel pieno del decennio, nell'incontro con tutte le scuole, Papa Francesco ci diceva questo, coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello. Sabato scorso, avete visto le immagini, abbiamo concluso una settimana stupenda, meravigliosa, tanti di voi erano presenti e all'udienza riservata al progetto Io Posso organizzato dalla FIDE ci rivolgeva queste parole. Mi piace vedere nel vostro impegno quotidiano la bellezza in azione, una bellezza formata dalla condivisione di tanti piccoli gesti. Mi viene in mente l'arte del mosaico, in cui tanti tasselli vanno ad integrarsi per formare un'immagine più grande. Visti da vicino quei pezzettini di pietra sembrano non aver significato, ma insieme creano una visione stupefacente. E ancora ci diceva nella tradizione ebraica e cristiana bellezza e bontà sono legate, sono inseparabili. Ad esempio nel libro della Gene si legge che Dio nella creazione separa i diversi elementi del mondo, la luce dalle tenebre, la terra dalle acque, popola la terra di vegetali e di animali e quando tutto è pronto crea l'uomo e la donna. Al termine della creazione di ogni cosa si legge, Dio vide che era cosa buona e per l'uomo e la donna Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Noi vediamo che il Papa ci invita al bello, al buono, al vero e quest'anno il nostro convegno offre una riflessione su come educare attraverso le arti può educare a tutto questo. È un piccolo omaggio che la FIDE vuole offrire al termine di questo decennio. E anche in vista, in preparazione dell'altro evento in cui il Papa ci ha invitato per ricostruire un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale e a un nuovo umanesimo al fine di affrontare le sfide di un mondo in continua trasformazione e attraversato da molteplici crisi. È l'invito che ci ha rivolto per il 14 maggio 2020 a livello mondiale. Pertanto è un omaggio a chiudere un decennio ma anche in prospettiva di questo grande evento. Monsignor Zani che poi tra poco verrà a salutarci e a parlarci di questo, in un intervento alla CEI diceva che l'evento che la FIDE ha promosso la settimana scorsa era il primo evento in preparazione al 14 maggio. Ce ne saranno tanti altri. Pertanto, già dicevo ieri sera al Cardinale nel ringraziare Cardinal Versaldi della sua presenza, guardare con fiducia ai linguaggi simbolici di cui le arti sono chiare espressione potrà essere una strada fruttuosa per realizzare questo desiderio che anima tutte le nostre scuole. Innanzitutto, e poi concludo, ringrazio quanti hanno apportato il loro tassello per arrivare ad oggi. Piccoli tasselli ma che hanno creato un lavoro stupendo. E grazie alla vostra presenza, alla presenza dei relatori che ringrazio, perché sono i tasselli che si aggiungono. Alla fine ci sarà un morosaico meraviglioso e ognuno di noi ha portato il suo tocco di bellezza. Vi saluto tutti cordialmente e vi auguro proprio due giornate intense di confronto, di scambio e di approfondimento. Ringrazio e saluto il presidente dell'Ages, il dottor Giancarlo Frare, per la sua presenza. Poi nel corso di questi due giorni sicuramente Remo Modo che ci rivolgerà un suo breve saluto. E io concludo passando la parola a Paola Ottolini, che ormai tutti voi conoscete, che è la nostra grande... cosa dire? Non grande. Ecco, ecco lei che ci sta accompagnando nei coordinamenti delle attività, particolarmente il convegno e il campus, che forse ho visto che qualche foglio già è girato per il prossimo campus, o sbaglio, che comunque avremo modo di rinnovare. Abbiamo già organizzato il campus estivo 2020 dal 13 al 17 luglio a Ravenna, città d'arte, che ci sta ecco al termine di tutto quello che abbiamo detto. E la ringrazio, la ringrazio per questo accompagnamento. Grazie.